Johannes Brahms è il protagonista del nostro terzo ed ultimo concerto cameristico. In questo programma ascolterete nell'Opera 64 quartetti vocali basati su testi poetici ed addirittura mitologici, ma soprattutto, attenzione, sarà avvolta al Brahms zigano. Infatti, nell'Opera 112 e soprattutto nell'Opera 103, che si chiama appunto Zygonia Lidl, sentiremo come il compositore mette in musica dei testi popolari a lui particolarmente cari. E con questi testi, che parlano di amore, di natura, di vitalità, il coro del Teatro Regio desidera augurare una felice estate al proprio pubblico e soprattutto speriamo di ritrovarci presto qua dentro. Grazie a tutti.